Ancora un incidente ad Olevano sul Tusciano, sulla SP29, che collega il centro con Battipaglia. A luna di notte circa, per ragioni ancora da accertare, il giovane di 27 anni, Davide Iannone, ha perso la vita. L'auto sulla quale viaggiava da solo una Ford Fiesta si è scontrata con altre due, violentissimo l'impatto. Pare che la vittima stesse viaggiando verso Olevano, nel senso contrario, gli altri veicoli. Ferita una ragazza di Agropoli che occupava uno degli altri mezzi. Sul posto l'è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gifoni Vallepiana, che ha dovuto lavorare, e non poco, per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere. Per lui non c'era più nulla da fare. Davide Iannone era molto conosciuto nella comunità di Olevano sul Tusciano. Attivo nel sociale, militava anche nella locale squadra di calcio. Quest'anno, ritiratosi, avrebbe allenato i piccoli calciatori dell'Olevanese. Sconvolta la comunità cittadina. Purtroppo la SP29 si conferma un tratto molto pericoloso, sul quale, spesso, la velocità è sostenuta. Purtroppo la SP29 si conferma un tratto molto pericoloso,